Così come quella dell'anno scorso, anche la seconda edizione della festa democratica a San Nicola ha riscosso un grande successo. Sono doverosi alcuni ringraziamenti perché questa festa è stata possibile per l'impegno del circolo cittadino, del suo segretario Vito Marotta e quello dei giovani democratici che tutti si sono spesi per giorni nella organizzazione di questa che è una festa di una piccola cittadina ma che richiede tanta passione, tanto sforzo, tanto impegno e che sono stati tutti ripagati dalla riuscita, se posso permettermi di dirlo, dei dibattiti che ci sono stati e dei contenuti che siamo riusciti a portare nella piazza della nostra città, questa piazza che è di norma buia, triste, sporca, abbandonata e che noi abbiamo voluto vitalizzare perché riteniamo che il senso e lo scopo della politica sia questo, quello di confrontarsi e di provare a cambiare le cose che non vanno e che non ci piacciono. Abbiamo avuto la presenza del segretario provinciale Vincenzo Cappello, dell'onorevole Pina Piscerno e ci è venuto a salutare per la verità il nostro sindaco, poi i nostri consiglieri comunali, Lello Narduccio e Giovanni Motta hanno partecipato al dibattito col contributo di Vincenzo Mazzarella, ieri i giovani democratici con gli amministratori Raffaele Vitale, Giovanni Sposito, Pasquale Stellato, spero veramente di non dimenticare nessuno. Abbiamo chiuso il dibattito con l'onorevole Vaccaro, con l'onorevole Lello Topo, capogruppo in regione e con il viceministro Bubbico che è stato di una grandissima disponibilità, ha accettato di confrontarsi con noi, si è trattenuto a lungo e credo che abbia dato un segnale, come dire, di quella vicinanza indispensabile degli esponenti delle istituzioni più alte, in questo momento degli esponenti del Governo nazionale, del Governo guidato da Letta, che a mio avviso sta facendo molto bene, soprattutto in Europa e nei rapporti con i grandi del mondo e che sono certa farà ancora meglio in Italia, dove le risposte tardano ad arrivare perché i problemi sono grandi e la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, nemmeno il Presidente Letta. Quindi io approfitto per ringraziare tutti e per sottolineare questa necessità e l'importanza che i livelli istituzionali più alti si confrontino con i territori, con i problemi veri della gente, con la vivibilità delle nostre città che arretra e che deve invece tornare a crescere, intendendo e ritenendo che la sicurezza delle nostre città, quella a cui è preposta in qualche modo il Ministero dell'Interno, non possa essere confinata a ragionamenti che riguardano le forze dell'ordine, ma che debbano andare molto più in là, perché riguardano la tenuta sociale, la vivibilità delle città, l'illuminazione delle città, le politiche sociali delle città, come è stato sottolineato nel corso del dibattito. Io mi auguro che l'anno prossimo saremo ancora qui e sono certa che saremo ancora qui, che ci sarà una festa ancora più grande, ancora più intensa, più vissuta, più partecipata di quella di quest'anno.